Presidente, il 24esimo congresso nazionale della pneumologia italiana punta a un binomio sicuramente molto importante, quello che vede l'ambiente a tutto ciò che in qualche maniera poi inficia l'apparato respiratorio. Sì, verissimo, assolutamente vero. La salute respiratoria è in stretto legame con la salute dell'ambiente e la salute dell'ambiente determina malattie respiratorie. Per noi quindi curare l'ambiente permette al malato respiratorio di stare meglio, ma soprattutto chi non è malato di non ammalarsi se non altri fattori di rischio. Voi avete chiamato l'illuminismo della pneumologia per la salute respiratoria, insomma una serie di giornate che hanno il focus, hanno l'obiettivo di raggiungere quelle che sono alcune patologie ma anche l'importanza della prevenzione e anche della diagnosi precoce. Sì, certamente. Illuminismo della pneumologia perché ogni momento in cui la pneumologia ha avuto una piccola crisi si è rilanciata in modo importante. Abbiamo avuto il Covid-19, ci ha messo in crisi da tanti punti di vista, ma ci ha permesso di integrare la medicina, le nostre conoscenze mediche con quelle più informatiche, tecnologiche, per cui ci siamo allargati anche a questo settore rilanciando la nostra specialità. In questo senso vogliamo migliorare le nostre capacità di prevedere malattie, di curare malattie ed evitare complicanze delle malattie come per esempio le invalidità croniche. E perché pneumologica? Proprio per questo in me, questo connubio di pneumologia e logica, di logos, conoscenza, scienza. Senta professore, secondo lei prima del Covid tutto ciò che era l'apparato respiratorio era attenzionato come si doveva fare oppure forse l'unica cosa positiva che ha fatto il Covid, semmai possiamo definirla positiva, è stata quella di accendere i riflettori invece su una branca che va maggiormente attenzionato, considerato anche tutti gli effetti collaterali che poi si ha sul resto dell'organismo. No, assolutamente hai ragione. Sono anni che dicevamo che le malattie respiratorie sarebbero diventate molto importanti all'interno della sanità, che nel 2020 la mortalità per malattie respiratorie sarebbe stata la terza causa di morte a livello mondiale nei paesi occidentali. Questo si è verificato a riflettori spenti, non c'è stato molto interesse dei sistemi sanitari. Il Covid ha rimesso in luce invece la importanza della pneumologia, l'importanza di quello che sappiamo fare di prevedere queste malattie, di curare queste malattie, di fare ventilazione nei malati più complessi. Quindi arriva anche ai livelli estremi di gestione della malattia, che è quello della terapia intensiva e semi-intensiva respiratoria. Per finire, come Presidente dell'Aipo che cosa si aspetta dal Governo nazionale e comunque da tutto ciò che in qualche maniera deve affrontare anche la parte dei pneumologi ospedalieri? Una giusta gestione della malattia respiratoria cronica e della cronicità. Questo anche all'interno del PNRR, in cui bisognerà allargarci al territorio. Di questo ne abbiamo parlato anche a livello ministeriale e mi sembra di vedere attenzione da questo punto di vista.